Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di riso 150 grammi di spinaci 200 millilitri di panna da cucina 40 grammi di burro Mezza cipolla 750 grammi di riso 50 centilitri di brodo, anche di dado, e parmigiano grattugiato Preparazione Lessare gli spinaci e frullarli Tritare la cipolla e soffriggerla in metà del burro Unire gli spinaci e fare insaporire Versare il riso Mescolare bene Aggiungere poco alla volta il brodo caldo e portare a cottura Prima di togliere dal fuoco mantecare con il burro rimasto e la panna Unire il parmigiano e servire Il piatto è pronto Buon appetito!